Benvenuti a Capo Orlando, oggi vi racconto cos'è l'Itessisli. La Sicilia che eccelle, tutto quello che riguarda e che orgogliosamente porta il nome della Sicilia in giro per il mondo, presentato in un weekend a Capo Orlando, tre giorni di festa non soltanto per Capo Orlando ma per tutta la nostra regione. L'arte, cultura, enogastronomia, folcore, tradizione, tutto quello che riguarda la Sicilia in un weekend a Capo Orlando. Una manifestazione che ha avuto un successo, che non conosce i limiti, un appuntamento molto atteso e sempre più partecipato. Quindi l'appuntamento è il terzo weekend di maggio, tutti a Capo Orlando a festeggiare in tre giorni, un weekend, quella che è la nostra Sicilia, quella che è la nostra bella Capo Orlando. Viva l'Itessisli! Viva l'Itessisli!